Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra ucronia, al nostro mondo alternativo in cui proviamo ad immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se l'impero romano fosse sopravvissuto. È una storia molto lunga, una storia che abbiamo iniziato a raccontare nel 476 d.C., immaginando che Giulio Nepote fosse tornato sul trono di Roma, deponendo l'ormolo Augustolo e lasciandolo ad un semplice piccolo segno nella storia, siamo partiti da lì e abbiamo immaginato tutto quello che è successo dopo, arrivando in questa puntata al 1983-1984. Gli anni 80 nel mondo di Orbis sono anni di grande crescita economica, lo vedremo in questa puntata, sono anni di grandi speranze, ma sono anche anni in cui la crisi, le tante crisi che sono scoppiate in giro per il mondo stanno progressivamente raggiungendo il loro acme. E come andrà a finire in un mondo che esattamente come quello della nostra timeline vede vari stati dotati di armi atomiche e di eserciti pronte ad intervenire? Beh, ovviamente, come andrà a finire? Lo decideremo tutti insieme. Prima di iniziare, come sempre, un grandissimo ringraziamento ai ragazzi della Wiki, che in queste ultime settimane hanno fatto un lavorone per star dietro ai tanti cambiamenti di mappa e di storia di Orbis. E poi, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla di Orbis, spero di essermi ricordato questa volta, e poi iniziamo a raccontare. Grazie a tutti. Dal punto di vista economico, questi primi anni 80 sono stati anni in cui la crescita, che ormai è stata costante negli ultimi decenni, in qualche modo raggiunge veramente il suo acme, la sua punta. Abbiamo visto come nel mondo di Orbis, a differenza della nostra timeline, il fatto che le risorse fossero equamente distribuite tra i principali stati, ha permesso che la crescita continuasse anche nel corso degli anni 70, anche se ovviamente c'è stato un rallentamento rispetto al decennio precedente, questo ha portato all'inizio degli anni 80 ad un grandissimo benessere economico. Inoltre, la fascia di popolazione che era nata immediatamente dopo l'ultimo conflitto e che ovviamente in questi anni raggiunge il periodo in cui diventa la vera classe in grado di spendere, classe di età in grado di spendere e espandere, inizia a richiedere sempre più materiale, sempre più prodotti finiti e anche la moda inizia a seguire queste tendenze. Il risultato è che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 si assiste a livello globale ad una vera e propria corsa al consumismo, quantomeno a Nuova Terra e in Europa, dove, nell'Europa occidentale ovviamente, dove questa situazione porta a una grande crescita dei consumi e in generale ad un'ulteriore crescita dell'economia. A stimolare poi questa crescita economica ci si mettono anche due fattori. Da una parte c'è la propaganda, che in questo mondo spaccato in due blocchi, due blocchi che però non sono divisi dal punto di vista economico, entrambi puntano molto sul liberismo, ecco che la possibilità di dare alla propria popolazione di che avere in grande quantità, non solo di che vivere, ma insomma di poter avere accesso a tantissimi nuovi prodotti, diventa appunto motivo di propaganda. Con l'unione da una parte che disegna, racconta i vantaggi del mondo libero, come si fa a chiamare, anche dal punto di vista economico, e dall'altra invece l'impero che diventa un po' l'immagine di un'alleanza dei tre imperatori, che in realtà nei territori dei Russe e in Giappone non è così florida dal punto di vista economico, con l'impero che però, molto cresciuto dal punto di vista economico, è in grado di dimostrare il grande tenore di vita di chi vive all'interno. Un po' mi facendo mettere da parte le libertà economiche, le libertà, chiedo scusa, politiche, che invece non hanno seguito quelle economiche. C'è poi un secondo fattore, che è il fattore della cosiddetta spesa statale. In effetti entrambi i blocchi in questi anni, per motivazioni politiche, iniziano a spendere molto, sia con investimenti interni che con investimenti in tecnologia e in militare. Per l'impero la motivazione è la salita al potere come primo ministro di Roberto Regano, il quale abbiamo visto nella scorsa puntata aveva ottenuto questo posto, la possibilità di guidare il governo dell'imperatore Marco Antonio, proprio grazie all'idea di una politica molto aggressiva a livello globale, sia dal punto di vista politico che anche dal punto di vista economico, con grandi investimenti. Quindi investimenti che vengono fatti nel settore degli armamenti, ma che vengono fatti anche nel settore tecnologico, con una serie di espansioni della struttura aerospaziale dell'impero, l'espansione della già in fase di costruzione quasi completamente ampliata stazione spaziale orbitante, che viene ulteriormente in grandità e a cui alcuni iniziano a dire che si stiano progettando dei moduli militari, in modo da trasformare in una vera e propria base militare avanzata, e dall'altra con l'espansione del sistema di satelliti messo in orbita, per quello che secondo alcuni sarebbe il progetto di creare un sistema che possa monitorare 24 ore su 24 ogni parte del globo, in quelle che qualcuno inizia a chiamare delle vere e proprie guerre stellari. La risposta da parte dell'Unione è ovviamente molto diffusa, si fanno molti investimenti dal punto di vista strutturale sia in Svezia che in Olanda, abbiamo una grossa crescita dal punto di vista economico degli investimenti anche in Longobardia, e questo avviene anche in Normandia, dove peraltro in questi anni i rapporti tra i pies noirs, quindi coloro che erano fuggiti dall'Africa per tornare in Normandia, e le popolazioni iniziano ad allentarsi, anche grazie ad un film, pensate, chiamato Ramb, che era un film che raccontava di un reduce della guerra appunto tra il Centrafrica e il Mali, che tornato in, cioè fuggito, fuggito dal Centrafrica per raggiungere la Normandia, era stato braccato dalla polizia locale per un crimine che non aveva mai commesso. Ramb, ovviamente grazie al suo addestramento, alle sue capacità di sopravvivenza, riesce a battere la polizia, ma l'effetto che fa questo film nel presentare comunque i pies noirs come una popolazione quasi isolata, messa da parte dal resto della politica, in qualche modo inizia ad allentare, a fare i suoi effetti, e ad allentare dal punto di vista politico la presa su questo gruppo di persone. Dal punto di vista politico, economico, chiedo scusa, però grossi investimenti, come potete immaginare, vengono fatti anche dalla Repubblica, che non solo spinge il budget dell'Agenzia Spaziale dell'Unione, che in questi due anni continuerà a mandare materiale e progressivamente ad ampliare la base Selene sulla Luna, dove le nuove missioni che arrivano addirittura riescono a fermarsi ormai per un mese e mezzo, la base viene ampliata ed è in progettazione l'idea di creare un sistema per poter anche iniziare a coltivare qualche cibo, anche se le cose per ora non sono ancora pronte dal punto di vista tecnologico, ma la Repubblica, con un governo che in questo momento, ricordate, è di larga intese, con le due principali forze politiche in qualche modo unite nel governo, che fa grossi investimenti anche interni. Uno degli investimenti simbolo di questo periodo è la progettazione del cosiddetto ponte sullo stretto di Messina. Un ponte che in questa timeline è considerato un'infrastruttura fondamentale, anche perché la Sicilia e il sud dell'Italia sono due tra le zone più ricche della Repubblica, sarebbe una connessione importante, che però fino a questo momento non era mai stato costruito, un po' per problemi dal punto di vista economico, si parla di una spesa veramente enorme, qualcuno dice che ci saranno parecchi che cercheranno di mangiarci da questa costruzione, ma anche per motivazioni sismiche, con grossi dubbi sul fatto che un ponte in una posizione così sismicamente difficile possa reggere a lungo. Ma insomma, qua ci stanno lavorando e ripeto, dal punto di vista economico, nessuno pone il dubbio sul fatto che sarebbe un'infrastruttura molto importante per collegare due delle regioni più sviluppate di tutto il mondo. Per tornare a Nuova Terra, però, l'immagine forse più forte di questo bienio nel 1984 sono le Olimpiadi che si tengono a Civitas Mexici. Le avete viste anche nella copertina. Sono Olimpiadi gigantesche, a cui partecipano letteralmente tutti gli stati del globo. Dal punto di vista politico sono ovviamente un indizio molto forte della forza economica dell'impero e lo stesso Roberto Regani, una volta salito al potere, aveva insistito perché il budget per l'Olimpiadi, ovviamente già stanziato, gran parte dei lavori erano già stati fatti, fosse ulteriormente incrementato per dare una dimostrazione di forza ancora più grande. Dal punto di vista politico sono attraversate però anche da delle discussioni, non tanto sugli stati partecipanti, perché ripeto ci partecipano stati da tutto il mondo, quanto tra gli stati africani e il Sudafrica. Gli stati africani ovviamente subsahariani escluso Sudafrica e il Sudafrica stesso, con alcuni atleti provenienti dal Ghana piuttosto che dal Congo che si rifiutano di gareggiare proprio contro atleti sudafricani che invece nonostante siano in qualche modo esclusi da tutto quello che avviene in Africa sono invece stati invitati insieme al resto della nazione a partecipare e la cosa in effetti crea parecchie polemiche. A netto di questo però, ripeto, sono olimpiadi veramente enormi a cui partecipano tantissimi atleti, tante medaglie assegnate, tantissimi sport, molto più rispetto a quelli precedenti, proprio nella volontà di, che sembrano poi il simbolo di questi anni, di più grande, più ricco e meglio. In realtà, però, la copertina di questi giochi viene rubata da un evento che potremmo dire scandalistico. Infatti, molti giornali, ovviamente non all'interno dell'impero, quanto piuttosto in Europa, iniziano a notare come due personalità siano in qualche modo state riprese un po' troppo spesso vicine durante le Olimpiadi. Una di queste personalità non è nient'altro che il principe della Repubblica, cioè Napoleone. Ricordate, il principe, il figlio dell'attuale Napoleone, non il princeps, chiedo scusa, non il princeps Napoleone, quarto attualmente al potere, ma il figlio, che a sua volta si chiama Napoleone, o meglio, Napoleone Vittorio. Bene, Napoleone Vittorio, che nel 1984 ha 21 anni, partecipa alle Olimpiadi come membro della squadra di vela della Repubblica. Una aveva, fin da giovanissima, era stato portato più volte in mare, aveva sviluppato una passione per questo sport, come per tanti altri, ma a quanto pare nella vela era molto, molto portato, tanto che parteciperà alle Olimpiadi non solo in rappresentanza ufficiale del governo repubblicano, ma anche come rappresentativa sportiva. Non riuscirà a portare a casa medaglie, ma è ovvio che, data la sua importanza, molti dei riflettori saranno puntati su di lui. Bene, alcuni di questi riflettori avrebbero messo in luce come ad uno degli eventi ufficiali che tenevano intorno alle Olimpiadi il nostro fosse venuto a contatto niente po' di meno che con Livia, che era l'anchè e la nipote di Marco Antonio, ricordate, il figlio di Marco Antonio è morto in un incidente sugli sci, quindi l'unica discendente dell'attuale imperatore è appunto Livia, la nipote, che nel 1984 aveva 17 anni e si trovava all'evento ovviamente in forma ufficiale e che pare sia entrata in contatto proprio con il giovane Napoleone e pare che i due in qualche modo si siano piaciuti. I due, peraltro, sono stati poi rivisti insieme anche a distanza di qualche giorno in un altro evento, evento a cui teoricamente Napoleone non avrebbe dovuto partecipare, ma a cui era stato aggiunto all'ultimo. Ovviamente qualunque tipo di notizia di questo genere è stata completamente smentita da entrambe le parti, sia da parte dell'impero, dove si è detto che Livia, in quanto futura imperatrice, avrebbe scelto un compagno all'interno dell'impero, sia da parte repubblicana, dove ci si è affrettati a dire che Napoleone non aveva nessun interesse per la decadente famiglia imperiale romana. Però, ripeto, sono stati paparazzati in questo modo e chissà, ovviamente, come la cosa potrebbe continuare. Ma questa è una curiosità che, su cui, volendo, tutti insieme possiamo lavorare. Ad ogni modo, abbiamo raccontato fino adesso la parte, come dire, positiva di questi due anni. Quello che però ci dimentichiamo è che questi due anni vengono anche chiamati gli anni dello splendido tramonto. E non è un nome che è stato messo a posteriori, è un nome che è nato negli stessi anni in cui alcuni intellettuali hanno iniziato ad analizzare questo splendido, questa crescita, all'interno però di un quadro dal punto di vista politico che stava diventando sempre più complesso, parlando quindi di un tramonto di quel sistema di pace, relativa pace, dopo tutto in Asia e in Africa erano successi parecchi problemi, in qualche modo, di relativa pace, che stava ormai durando da tanti anni e che proprio in questi due anni sembra essere stato messo in crisi. E questo in varie zone del globo. Uno dei primi problemi è quello africano. In Africa la situazione dal punto di vista politico continua a essere molto difficile. Le proteste continuano in varie zone. Continuano in Sudafrica, dove la Nouvelle Afrique continua i suoi attacchi contro il governo e a sua volta il governo utilizza l'esercito per reprimere questi attacchi. Peraltro, in Sudafrica in questi anni accentua ulteriormente le sue politiche di separazione delle due popolazioni, giugendo addirittura a spostare interi popoli, intere tribù in alcune zone più desertiche, meno utili dal punto di vista produttivo, con l'ufficiale dichiarazione di volerli proteggere dagli scontri, ma in realtà con l'idea di spostarli in zone in cui non possano essere di problemi per la minoranza bianca. Ci sono problemi anche in Somalia e d'Eritrea, lo abbiamo detto, che stanno cercando di staccarsi dall'impero ottomano, problemi molto limitati, anche se la presenza di forze ottomane in loco, soprattutto in Eritrea, dove queste popolazioni che si protestano sono più forti, fa circolare la notizia di alcuni scontri e di alcune violazioni dei diritti umani composte proprio dall'impero ottomano. Pare, inoltre, che l'Etiopia in qualche modo stia finanziando queste rivolte proprio per indebolire la posizione ottomana. Un altro posto dove però vi sono grossi scontri è il Senegal greco. A differenza delle altre potenze europee, abbiamo detto, il Regno di Grecia, che è un regno senza sovrano, lo sappiamo, ha deciso di voler mantenere la propria posizione in Africa in Senegal. La cosa ha creato parecchio malumore, soprattutto dalla popolazione locale che ha iniziato a insorgere, con il risultato che la Grecia ha iniziato a inviare sempre più truppe in zone per cercare di mantenere la posizione. Il problema è che molte di queste truppe negli ultimi due anni sono state composte anche da giovani greci che erano stati sottoposti dal servizio militare e che venivano inviati a combattere proprio nella zona. Progressivamente la morte di giovani in queste posizioni ha iniziato a creare un certo malcontento nella stessa Grecia, con il governo dei giovani greci che si è rifiutato di rivalutare la sua situazione e situazione che però in Senegal continua a essere sempre molto difficile perché il Ghana che non dimentichiamoci ha anche per accordo con l'impero rinunciato a finanziare movimenti di rivolta nella vicina Liberia invece continua a finanziare con aiuti economici su ordine dello stesso Tommaso Sankara aiuti economici e armi i movimenti di rivolta del Senegal. Anzi pare che anche alcuni gruppi che un tempo avevano fatto parte della grande ribellione di Sankara contro il male inglese abbiano iniziato ad attraversare confine e a formare e ad aiutare proprio i movimenti di rivolta contro il Senegal. In questi due anni la guerra quindi cresce diventa una grossa spesa dal punto di vista propagandistico diventa una grossa spesa dal punto di vista economico e la cosa inizia a sentirsi anche in Grecia dove nel 1984 all'inizio del 1984 vengono emanate dal Parlamento ovviamente a stretta maggioranza dei giovani greci una serie di leggi apertamente liberticide che servono a limitare la possibilità di attaccare il governo per questa posizione leggi per cui viene condannato qualunque attacco per mezzo stampa o anche a voce contro le forze armate qualunque attacco contro la situazione in Senega sostanzialmente impedendo alla gente di protestare per quello che sta succedendo ma soprattutto qualunque attacco contro il governo stesso togliendo in questo modo grosse libertà al popolo che in alcuni casi scende nelle strade particolarmente importante è la manifestazione del Politecnico di Atene nell'estate del 1984 rivolte che però vengono costantemente spente dai servizi di sicurezza greci per il regno di Grecia però questo è un grosso problema anche dal punto di vista economico perché questi attacchi questa guerra ha un altissimo costo anche dal punto di vista economico e per un'economia debole come quella greca la cosa si fa sentire parecchio si fa peraltro sentire parecchio anche nei confronti dei vicini perché un po' imitando quanto era stato fatto qualche anno prima in Inghilterra nel 1983 anche la vicina Repubblica Comunista di Grecia annuncia la volontà per il 1986 di far tenere delle libere elezioni esattamente come in Grecia non saranno proprio esattamente che lo scusa come in Inghilterra non saranno veramente libere perché ci sarà un controllo preventivo sul tipo di partiti sui loro programmi sui loro membri per evitare derive crociste così vengono chiamate ma è in qualche modo un passo avanti quasi come se le due Grecce si potrà dire le due parti della Grecia abbiano seguito due percorsi opposti uno verso la libertà partendo da una dittatura comunista e l'altro che sta cadendo in un autoritarismo partendo invece da un regno formalmente democratico ma come andrà ovviamente lo vedremo insieme in questi due anni la situazione poi si fa molto complessa anche per i territori dei russ dove il governo di Gregorio succeduto al padre Alessio continua a essere molto molto instabile anche perché all'interno del paese una parte dell'elite non sembra appoggiare il nuovo sovrano che non dimentichiamocelo è un ubriacone ha grossi problemi con l'alco grossi problemi con le donne con il gioco d'azzardo ed è considerato tutto fuorché un simbolo di questa politica del nuovo Eden lanciato dal padre anche se bisogna dire che i figli di Maria a cominciare dal loro capo Yuri Andropov cercano in tutti i modi di tenere nascosti questi vizi del sovrano dal punto di vista militare per i russi sono anni complicati perché la lotta in Erkinistan è continua e addirittura a metà del 1983 i russi sono costretti ad osservare un cambio di potere nel Turkestan stato asiatico nella loro orbita che proprio a metà del 1983 porta una nuova coalizione di governo che non solo cerca di distaccarsi dai russi ma addirittura cerca di mediare un ingresso all'interno della lega dei fratelli musulmani per poter avere appoggio e in qualche modo cercare ovviamente una sponda per quell'autonomia mantenerla la volontà però dei russi si mostra proprio in questo caso perché non solo continuano gli attacchi contro la popolazione le violenze nell'Erkinistan e la lotta contro i movimenti di rivolta guidati dal comandante Massoud ma nell'autunno del 1983 quindi pochi mesi dopo le elezioni i russi riescono ad organizzare un controcolpo di stato nel Turkestan che ripristina la situazione precedente il nuovo governo una volta preso il potere chiede proprio l'intervento dei russi che mandano loro truppe nel paese e permettono nonostante le proteste che giungono dall'Unione e ovviamente dalla Lega dei Fratelli Musulmani riescono a permettere di ripristinare la situazione e riportare il Turkestan nella propria orbita secondo molti ad organizzare tutto questo è stato proprio Yuri Andropov il problema però arriva da un'altra parte la situazione infatti ripeto è sempre più difficile anche per i russi anche qui lo sforzo militare è pesante anche qui la situazione diventa sempre più grave anche qui sempre più cittadini vengono portati a combattere nel Turkestan dove gli scontri ormai continuano da tempo Turkestan in cui peraltro ormai combattono anche tantissime forze volontarie provenienti dalla Lega dei Fratelli Musulmani che si uniscono ai ribelli locali proprio per questo ripeto una parte dell'elite non è d'accordo nell'aprile del 1984 una parte di questi gruppi presenti anche all'interno dell'esercito tenta un colpo di stato per abbattere il sovrano e cambiare la guida del paese il colpo di stato è teoricamente abbastanza ben organizzato attaccare con le forze armate nelle città principali occupare i mezzi di comunicazione cercare soprattutto di catturare il sovrano e la sua famiglia in questo modo obbligandolo a lasciare il trono al fratello Nicola che tutti ricordano essere stato il preferito di Alessio e che secondo alcuni dovrebbe essere sovrano a regnare veramente sui Russe l'attacco inizialmente sembra avere effetto ma a sorpresa il sovrano che doveva trovarsi all'interno del palazzo quando i congiurati lo raggiungono dopo un breve scontro con le forze di sicurezza non si trova da nessuna parte Gregorio è stato infatti fatto fuggire proprio da Yuri Andropov che grazie alle forze di sicurezza dei figli di Maria che ormai danni sono diffusi su tutto il territorio è venuto a conoscenza di quello che stava accadendo sarà proprio lui grazie all'appoggio dei figli di Maria a ribaltare rapidamente la situazione l'esercito all'interno dello Stato questo esercito speciale di questo gruppo religioso riesce infatti a disarmare una parte dell'esercito i loro membri sparsi all'interno dell'esercito stesso riescono a mantenere buona parte dell'esercito insieme al sovrano contro i congiurati in poche ore la congiura fallisce coloro che avevano attaccato vengono catturati molti saranno torturati costretti ad ammettere pubblicamente il tentato colpo di Stato giungeranno ad ammettere e questo ovviamente è falso che il colpo di Stato fosse stato ordito dalla Repubblica dall'Unione proprio per sostituire Gregorio con Nicola e in questo modo portare i Rus nell'orbita dell'Unione verrà incolpata la Svezia insomma verranno dette un gran numero di cose non vere per mere motive di propaganda interna e alla fine Nicola prima di essere catturato si suiciderà e verrà accusato proprio di essersi venduto ad agenti stranieri per impedire per in qualche modo impedire la crescita dei Rus insomma un colpo di Stato fallito ma la situazione nel territorio Rus continua a rimanere molto complessa curiosamente c'è un altro Stato che in questi due anni andrà a fare una guerra anche se una guerra che potremmo dire è stata veramente molto poco combattuta cioè l'Irlanda voi ricorderete che l'Irlanda ha ancora una colonia in Africa il piccolissimo Congo irlandese che un tempo era sotto protezione del grosso Congo scozzese bene quando c'è stata la fase di decolonizzazione l'Irlanda ha cercato di mantenere quella colonia anche perché era una colonia molto poco popolata di locali la popolazione era principalmente irlandese non c'erano state grosse richieste di distacco chi invece aveva chiesto più volte che l'Irlanda lasciasse quel territorio era stato il nuovo Zaire di Mobutu che aveva sostituito il Congo scozzese Mobutu aveva cercato più volte prima per vie diplomatiche poi per vie anche aggressive di ottenere quel territorio a cercare una mediazione insieme a lui era stato anche Sankara che seppur ormai si distanziasse un po' dal punto di vista politico da Mobutu aveva cercato in tutti i modi di continuare la politica per eliminare qualunque forma di presenza straniera dal territorio africano Sankara era riuscito anche quasi a stabilire una relazione si iniziava a parlare dell'idea che quel territorio potesse rimanere irlandese almeno fino a fine secolo si parlava del 1999 per poi passare ufficialmente allo Zaire l'Irlanda sembrava anche d'accordo della cosa ma Mobutu alla fine si era tirato indietro aveva deciso di rinunciare a un possibile accordo dicendo che quel territorio era del Zaire e doveva tornare ad esserlo al più presto nel settembre del 1983 senza una dichiarazione di guerra le forze l'esercito dello Zaire deciderà quindi di invadere il Congo irlandese sarà un'operazione militare da bassissimo da bassissimo profilo le forze irlandesi presenti infatti riceveranno l'ordine di non cercare particolarmente lo scontro e a parte alcune zone in cui forono appunto degli scontri che portarono grossomodo una cinquantina di morti una trentina tra le forze dello Zaire e una ventina tra quelli irlandesi il conflitto ripeto sarà a bassissimo volume buona parte della popolazione di origine irlandese nei mesi successivi si imbarcherà su una serie di navi mandate dall'impero in aiuto dall'impero e dalla repubblica in realtà in aiuto di questa popolazione per riportarlo in Europa l'irlanda protesterà a lungo chiederà aiuto ad entrambe le fazioni ma sia l'unione che l'alleanza dei tre imperatori pur protestando per quest'atto di guerra contro Mobutu in realtà non avranno nessuna intenzione di impegnarsi per salvare una così piccola striscia di territorio e così forse l'irlanda pagherà questa sua volontà di rimanere fuori da entrambi gli schieramenti perdendo la sua colonia l'irlanda ovviamente non riconoscerà questa annessione ma Mobutu potrà invece festeggiarla facendo crescere ulteriormente il grande palazzo che sta facendo costruire proprio in suo onore dove però la situazione si sta facendo veramente molto 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 calda è l'Asia in Asia lo sapete i fronti principali sono due quello tra l'Industan e l'India da una parte e quello tra la Cina e il Giappone dall'altra bene 1983-1984 sono due anni in cui questi fronti diventano letteralmente caldissimi il nuovo Giappone infatti aveva lanciato un attacco contro i ribelli in Manciuria attacco che gli aveva permesso di riconquistare quelle zone del paese che erano cadute nelle mani dei ribelli ma anche di scoprire vasti depositi di armi e di munizioni prodotti in Cina questo aveva ulteriormente aggravato i rapporti tra i due paesi con le forze giapponesi che una volta ristabilito il confine con la Cina erano arrivati letteralmente più volte ad un passo dallo scontro con quelle cinesi la pubblicazione della notizia della presenza di quei depositi la condanna da parte giapponese della Cina aveva portato parecchi paesi alleati proprio col Giappone a chiedere che la Cina venisse punita per questa volontà che rinunciasse ufficialmente a finanziare i ribelli manciuriani e tornasse sui suoi passi la Cina però aveva rifiutato l'imperatore aveva fatto presente che senza anche senza un intervento ufficiale del governo ad inviare quelle armi erano stati cinesi di buona volontà questa era stata la definizione cinesi che lui diceva non tolleravano che dei loro compagni fossero sottoposti alle violenze a cui gli sottometteva il Giappone questi cinesi di buona volontà ovviamente non esistevano era il governo che mandava queste armi armi che peraltro erano anche un po' la risposta al fatto che invece in Indocina continuassero ad arrivare rifornimenti ai ribelli che ancora rendevano difficile la vita all'esercito cinese che qua continuava a avere grandi perdite insomma due stati Giappone e Cina che hanno entrambi grosse instabilità per motivi militari e che accusano si accusano l'un l'altro per questi problemi il fronte tra i due stati stava diventando letteralmente caldissimo la paura era che bastasse una pallottola di troppo qualcuno che magari impazzito spaventato sparasse dall'altra parte per scatenare una guerra inenarrabile anche perché entrambi gli stati lo sapete sono dotati di armi atomiche l'altro grosso fronte che sta diventando anche qui sempre più caldo dopo tutto sono due stati alleati con il Giappone e la Cina era appunto quello tra l'Industan ed India qui gli scontri dopo un quasi decennio di relativa calma negli ultimi anni sono andati crescendo sempre di più entrambi i paesi hanno a tutti gli effetti delle specie di quinte colonne chiedo scusa cioè dei gruppi che ufficialmente sono gruppi di rivolta locali composto da popolazioni di religioni hindù nell'Industan che ha maggioranza musulmana e popolazioni di religione musulmana invece in India che ha maggioranza hindù che anche se ufficialmente sono movimenti locali che stanno assumendo anche dei contori terroristici sono in realtà finanziati dall'altro stato che quindi finanzia la guerriglia nello stato oppositore anche qui la situazione è molto calda i due governi sono tornati ad accusarsi l'un l'altro di non star rispettando i patti sono tornati ad accusarsi l'un l'altro di violenze sulle rispettive popolazioni e questo bisogna dire che è vero perché entrambi gli eserciti stanno rispondendo con violenze sulle popolazioni di religione opposta ma anche si stanno accusando di continuare a finanziare questi gruppi definiti terroristici insomma anche qua i due governi sono letteralmente alla gola nel mondo qualcuno sta iniziando a preoccuparsi molto di questa situazione una delle voci che più si levano per cercare di trovare una pace e evitare che ci possa essere veramente uno scontro è quella di Kennedy presidente della Repubblica di Carolina il quale più volte invite i contendenti ad un incontro in territorio naturale proponendo la stessa Carolina per cercare di risolvere la situazione il problema è che invece i due blocchi in qualche modo stanno soffiando sul fuoco lo sta facendo l'impero dove Regani ha da quando è salito al potere iniziato a spostare l'interesse politico proprio verso l'Asia e che è quello che sta inviando le armi in Indocina ma lo sta facendo anche la Repubblica che proprio in risposta all'azione politica imperiale a sua volta non vuole dimostrarsi debole e sta dopo tanti anni continuando a finanziare la Cina che per tanti anni era stata quasi un alleato scomodo e che ora invece torna a ricevere armi e aiuti proprio in opposizione agli altri paesi stessa cosa ovviamente per l'Industan insomma questa situazione si sta accendendo perché entrambi i blocchi stanno continuando a spingere sull'acceleratore e non sembrano intenzionati a fermarsi ma bisogna vedere dove potrebbe andare potrebbe essere inevitabile o potrebbe essere che Kennedy in qualche modo riesca a risolvere la situazione e a portare veramente i contendenti intorno ad un tavolo c'è un'ultima curiosità sapete che nell'isola chiedo scusa di Taiwan sono nati da alcuni anni dei particolari fumetti chiamati manga che si stanno diffondendo in tutto il mondo bene proprio in questi anni inizia la pubblicazione di un fumetto che inizia ad avere una grandissima rinomanza a livello internazionale che è quello di Kenshiro in cui si parla di un mondo post-apocalittico distrutto da una guerra nucleare su cui si muovono i protagonisti bene qualcuno dice che uno dei motivi per cui questo fumetto sta avendo così tanto successo a livello globale in stato essere prodotto anche un cartone animato che riprende questa trama e che inizia a circolare in varie televisioni in giro per il mondo potrebbe essere proprio legato a questa paura di una guerra atomica che improvvisamente dopo tanti anni torna a farsi sentire ma come andrà ovviamente come sempre lo decideremo insieme perché per raccontare i prossimi due anni non farò nulla da solo ma mi baserò su quello che mi scriverete voi qui sotto nei commenti e tutti insieme ma andiamo avanti questo mondo di Orbis che abbiamo più volte portato sull'orlo di grandi guerre qualche volta ci siamo precipitati qualche volta no bene adesso bisogna valutare bene le cose perché una guerra a questo punto potrebbe diventare un grosso grosso problema io mi fermo qua spero sia stata una buona puntata vi abbia dato buoni stimoli la prossima sarà tra una settimana quindi domenica prossima ancora va un grandissimo ringraziamento ai ragazzi della wiki che ripeto in questi giorni hanno fatto un lavorone perché c'erano tutti gli stati africani nuovi da aggiungere la nuova mappa tante cose di cui di cui parlare quindi veramente tanto hanno fatto veramente un lavorone grazie a tutti i commenti che sono arrivati perché state aiutando ovviamente a sviluppare questa trama e come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e ovviamente a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al vostro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo soprattutto questa è la cosa più importante a portare sempre più materiale a disposizione di tutti oggi in particolare il mio ringraziamento va a Martina Tosato grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao ciao